Sì, sì, per puntualizzare alcune cose. La proposta originale all'articolo 4 ter costava di tre commi. Uno che intendeva concedere le occupazioni solo pubblico alle classiche somministrazioni di alimenti e bevande, ai quali è già consentita dalla 91. Aggiungeva ai centri sportivi solo all'interno del perimetro di concessione le librerie in cui la vendita dei libri è prevalente. Poi diceva che nel resto della città, quindi non nella città storica, sono legittimate all'ottenimento della concessione tutte le attività produttive in sede fissa, comprese le librerie e i centri sportivi, quindi non anche all'interno della città storica qualunque tipo di attività. Questo è il comma 1. Il comma 2 dice che gli esercizi commerciali in sede fissa nella città storica che non vengono ricompresi nel comma 1 possono essere concesse occupazioni funzionali all'esercizio delle attività che non costituiscono l'ampiamento della vendita, così come panchine, quindi non stiamo parlando di tavoli e sedie. Inoltre c'era un terzo comma che probabilmente non è stato compreso, ma che voleva semplicemente essere una nuova visione di alcuni luoghi della città che diceva che le giunte municipali o la giunta capitolina, ciascuna per la propria competenza e con apposita deliberazione, quindi un'altra successiva, potevano approvare in aggiunta e non in contrasto con le richieste di concessione dei progetti di aree di uso comune adibite al consumo di alimenti e bevande. Stiamo pensando soprattutto alle periferie in questo caso, però questa funzione l'avevamo pensata con successiva delibera da parte di chi conosce i territori e della giunta capitolina per casi particolari. Potrebbe essere anche pensata a una famosa area picnic in un parco, naturalmente che deve essere verificata dall'aggiunta, che sia municipale o capitolina con l'aiuto degli uffici. Però per non generare troppa confusione abbiamo preferito tornare all'articolo della delibera originale, che evidentemente ha incontrato anche la maggior parte dei pareri favorevoli degli uffici. Grazie Presidente.